Ciao a tutti, Marco Vigellini, oggi vedremo, inizieremo una nuova serie di video che riguardano veramente le nozioni base di Minecraft La prima cosa che dobbiamo scoprire su Minecraft è dunque come abilitare i trucchi in Minecraft, è una cosa fondamentale Vediamo come Avviamo allora un nuovo mondo Io clicco su questo che ho creato in precedenza E vedete che io sono in modalità sopravvivenza, riconoscibile dai cuoricini e dalla barra della fame E io se premo il tasto T non ho modo, slash, di dare alcun comando Non ne viene riconosciuto alcuno Cosa significa? Che non sono abilitati i trucchi Non avere abilitati i trucchi in Minecraft significa che alcuni comandi importanti non possono essere eseguiti Questi comandi sono per esempio quelli che ci permettono di passare dalla modalità creativa alla modalità sopravvivenza e viceversa E cambiare l'orario del giorno per esempio Oppure modificare il tempo Se sta piovendo per esempio dobbiamo attendere che smetta di piovere Altrimenti senza avere la possibilità di utilizzare i trucchi non potremo mai mettere il bel tempo Come abilitiamo i trucchi in Minecraft Se abbiamo un mondo già creato è sufficiente premere il tasto ESC Ovviamente un mondo che noi abbiamo lanciato È sufficiente premere il tasto ESC Andare sulle impostazioni E come vedete questa linguetta bisogna spostarla a destra Adesso i trucchi sono attivati Fatto questo Noi adesso con la lettera T abbiamo una serie di comandi come vedete Che possiamo eseguire Cosa possiamo fare per esempio Vediamo in questo caso il comando che ci darà la possibilità di passare alla modalità creativa Game mode C Do invio E notate come siano scomparsi i miei cuoricini E come se io premo la lettera E Ho a disposizione tutto il possibile immaginabile in Minecraft Voglio passare nuovamente in modalità sopravvivenza È sufficiente premere la lettera T Slash Game Mod S Invio Sono passato nuovamente nella modalità di sopravvivenza Proviamo per esempio a cambiare l'orario Time Set Come vedete Minecraft ci dà dei sorgimenti Proviamo a mettere Sunrise Ok E in effetti vediamo ecco che sta sorgendo il sole proprio di fronte a noi Altri dettagli poi su come gestire il tempo ve lo darò in un altro video Facciamo l'ultimo comando molto utile Weather Facciamo prima piovere un pochetto Rain In Minecraft Piove spesso Ok Quindi se dovesse capitarvi una situazione del genere È sufficiente premere T Slash Weather Clear E poi magari anche dare una durata Io solitamente do 100.000 Ok Ok È tutto per questo video Ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao